Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come ottenere un milione di rune grazie a questo nuovo glitch e siamo qui alla dinastia di Mogwin quindi se non sapete come arrivarci io ci ho fatto una guida la trovate in alto a destra quindi fare delle missioni per quel vecchio e poi vi porterà qui grazie a delle dita io arrivo qua in questo punto perché devo scalare questa collina quindi ci troviamo proprio qui in questo punto proprio qua io comincio a scalare mi raccomando cercate di capire un po' il sistema come proseguire quindi fate come sto facendo io e grazie a questi nuovi glitch io sto facendo veramente tantissime rune veramente tantissime rune quindi voi potete buttarvi dove volete esatto io ci ho fatto altre due guide due guide quindi mi sono buttato da un dirupo e mi hanno dato più di 400.000 rune qui come potete vedere ci sono altri giocatori che l'hanno fatta questa cosa io adesso che faccio faccio una bella spinna mi butto faccio un salto e poi faccio il secondo salto e come potete vedere non sono morto continuo a scendere e dopo 30 40 secondi dovrebbe darvi più o meno 400.000 rune io come equipaggiamento ho messo lo scarabeo d'oro c'è la guida in alto a destra su come ottenerlo e poi ho fatto di nuovo questa cosa al secondo tentativo quindi scarabeo d'oro più la zampa di gallina in salamoia dorata e mi ha dato più o meno 480.000 rune quindi in questo caso come potete vedere mi ha dato 350.000 rune più 4000 che non so aggiunge un altro 0 più lo scarabeo d'oro che ho mi fa 394.000 rune ora che faccio io? io ora provo a fare un secondo tentativo ma questa volta userò altre cose quindi assieme allo scarabeo d'oro uso la zampa di gallina in salamoia quindi ritorno qua apro il mio inventario e mastico cioè proprio strappo questa zampa di gallina in salamoia dorata in alto a destra vi ho fatto una guida su come incrementare le rune grazie a queste zampe io uso la zampa più lo scarabeo d'oro quindi adesso vi faccio vedere questo dalesmano che ho eccolo qua il scarabeo d'oro provo a ributtarmi di nuovo come ho fatto prima faccio un salto un altro salto sempre più avanti ed eccolo qua sono arrivato a 829.000 rune quindi adesso lo rifaccio di nuovo io arrivo a 1.200.000 ora sono arrivato a 879.000 quindi ragazzi il trick è questo il glitch diciamo il glitch trick trucchetti per fare rune è questo io adesso grazie a queste 879.000 rune posso livellare arrivo al livello 298 mi chiede più o meno 831.000 quindi meglio se livello un po' la vitalità quindi io spero tanto di esservi stato d'aiuto le guide stanno nelle schede in alto a destra oppure le trovate in descrizione oppure sul mio canale youtube che ho fatto una playlist piena veramente piena e zippa di tutorial su Elder Ring quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi iscrivetevi al canale attivate la campanellina e lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao